ciao a tutti ragazzi oggi parleremo di atmosfera e vedremo come è strutturata e quale sia la sua composizione chimica come sempre vi ricordo di sostenere il mio canale e se il video vi è piaciuto lasciate like e commenti come sappiamo il nostro pianeta è avvolto da un involucro gassoso che è trattenuto dall'attrazione gravidazionale terrestre e questo involucro prende il nome di atmosfera essa segue la forma della terra e presenta uno schiacciamento ai poli e un affiamento alle zone equatoriali e tropicali l'atmosfera svolge importantissime funzioni funge da filtro protettivo nei confronti dei raggi cosmici e delle radiazioni solari regola il riscaldamento terrestre e fonte di co2 per fotosintesi e di ossigeno per respirazione un'altra funzione importantissima svolta dall'atmosfera è quella di essere in mezzo attraverso cui si compie il ciclo dell'acqua che consiste in fenomeni di evaporazione condensazione e precipitazione tralasciando la presenza nell'atmosfera terrestre di polveri aerosol e inquinanti dovuti all'attività umana essa può essere considerata come una miscela di gas che nel caso dell'aria secca cioè priva di vapore acqueo alla seguente composizione chimica media al suolo espressa in volumi azoto circa il 78 per cento ossigeno circa il 21 per cento argon circa l'un per cento poi troviamo l'anidride carbonica che è espressa come 407 parti per milioni il neon 18 parti per milioni l'elio 5 parti per milioni e in metano due parti per milioni a tali gas si aggiunge il vapore acqueo la cui percentuale piuttosto variabile dal 3 al 4 per cento troviamo anche l'ozono la cui concentrazione si attesta intorno agli 0,04 parti per milioni la pressione media esercitata a livello del mare dalla colonna dei gas sovrastanti in condizioni standard cioè a 0 gradi celsius e a 45 gradi di latitudine misura 101.325 pascal che equivale ad un'atmosfera vediamo ora la struttura dell'atmosfera in base alla sua composizione essa viene divisa in bassa atmosfera e alta atmosfera dalla superficie del pianeta fino a circa 100 chilometri di altezza abbiamo la bassa atmosfera detta anche omosfera perché la sua composizione chimica è abbastanza omogenea i moti dell'aria in questa regione rimescolano i gas mantenendo più o meno costante il rapporto tra i suoi vari costituenti a di sopra dei 100 chilometri c'è l'alta atmosfera detta anche eterosfera perché non è uniforme i gas sono estremamente rarefatti e sono statificati a secondo della loro densità le caratteristiche fisiche dell'atmosfera variano con l'aumentare della quota man mano che ci si allontana dalla superficie terrestre assistiamo ad una diminuzione sia della densità che della pressione mentre la temperatura mostra delle oscillazioni in base alle variazioni di temperatura viene solitamente divisa in cinque strati sovrapposti dette sfere separate da limitate zone dette pause dalla superficie terrestre fino ad un'altezza media di 10 12 chilometri 8 chilometri ai poli e 17 chilometri all'equatore c'è la troposfera il cui limite superiore è la tropopausa dalla tropopausa sino a 50 60 chilometri troviamo la stratosfera delimitata superiormente dalla stratopausa al di sopra di quest'ultima sino ad 80 chilometri troviamo la mesosfera il cui limite superiore è la mesopausa dagli 80 e 90 chilometri sino ai 400 chilometri si estende la termosfera che termina con la termopausa oltre quest'ultimo strato troviamo l'esosfera la troposfera è il luogo della vita tutti gli esseri viventi piante e animali vivono in essa utilizzando alcuni dei gas che la costituiscono e cioè ossigeno azoto anidride carbonica e vapore acqueo essa viene definita anche come regione di mescolamento e della parte di atmosfera a stretto contatto con la superficie terrestre in essa sono concentrati i tre quarti dell'intera massa gassosa e quasi tutto il vapore acqueo la troposfera è lo strato dove avviene la maggior parte dei fenomeni di carattere meteorologico causati dalla circolazione delle masse d'aria che danno vita ai venti alle nuvole e alle precipitazioni atmosferiche la maggior parte degli inquinanti atmosferici emessi rimane confinata nella troposfera alcuni concentrati vicino la superficie terrestre altri come ozono anidride carbonica e metano sono distribuiti in modo più uniforme la troposfera è riscaldata principalmente dal basso ovvero dalla terra riscaldata dalla radiazione solare ne deriva che la temperatura diminuisce con l'altitudine e varia fino a raggiungere un minimo di meno 50 gradi celsius a 12 chilometri di altezza poiché in questa zona i rimescolamenti di aria sono frequenti la diminuzione della temperatura in altezza è irregolare con buona approssimazione si può indicare un gradiente termico verticale medio di 6,5 gradi celsius ogni chilometro si tratta di un valore medio poiché si possono riscontrare abbassamenti di temperatura anche più repentini nell'ordine di 10 gradi celsius ogni chilometro lo stato successivo detto troppo pausa è un sottile strato dello spessore di 100 300 metri ed è caratterizzato da una isotermia e dalla presenza di forti correnti orizzontali di grande intensità dette correnti a getto la stratosfera comincia intorno ai 12 chilometri 8 ai poli e 20 all'equatore e termina a un'altitudine di circa 50 chilometri dove la temperatura raggiunge un massimo di meno 3 gradi centigradi è caratterizzata da un gradiente termico verticale positivo e molto piccolo cioè in essa la temperatura aumenta leggermente con la quota contrariamente a quanto avviene nello strato sottostante questo aumento di temperatura con la quota è dovuto alla dissociazione delle molecole di ozono presenti nella stratosfera l'ozono è un gas le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno quando i raggi ultravioletti emessi dal sole vanno a colpire le molecole di ozono queste si decompongono il processo ha due effetti la produzione di calore tanto più grande quanto maggiori sono le dissociazioni e l'arresto dei raggi ultravioletti che sono dannosi per la vita l'emanazione di calore in seguito alla dissociazione dell'ozono ha effetto di riscaldare l'atmosfera circostante per cui nella stratosfera la temperatura aumenta con la quota al di sopra di esso troviamo la stratopausa che a differenza della tropopausa non ha dimensioni verticale neppure limitate è una zona di transizione che divide la stratosfera dallo strato immediatamente superiore cioè la mesosfera la mesosfera è il terzo dei cinque strati in cui suddivisa l'atmosfera in essa la temperatura dell'aria diminuisce con l'aumentare dell'altezza i confini esatti superiori ed inferiori della mesosfera variano con la latitudine e con la stagione ma il limite inferiore di essa solitamente si trova ad un'altezza di circa 50 chilometri sopra la superficie terrestre la mesosfera è caratterizzata da un'accentuata rarefazione degli elementi gassosi e da un graduale aumento di quelli più leggeri a scapito di quelli più pesanti in questa parte dell'atmosfera la temperatura riprende a diminuire con l'altezza e raggiunge il valore minimo variabile tra i meno 70 e i meno 140 gradi celsius intorno agli 80 chilometri attorno agli 80 chilometri di quota si possono osservare talvolta le nubi nottilucenti costituite probabilmente di cristalli di ghiaccio e minutissime polveri tali nubi sono visibili durante l'estate in genere alle alte latitudini e al crepuscolo e si presentano come sottili e brillanti intensamente illuminate dagli ultimi raggi del sole l'osservazione di queste nubi mostra che nell'alta mesosfera esiste un complesso sistema di correnti aerei ad andamento variabile che dovrebbero raggiungere la velocità fino a 300 chilometri orari il limite superiore della mesosfera e la mesopausa che di solito si trova ad un'altezza di circa 100 chilometri viene etichettato come luogo più freddo a livello naturale della terra con temperature che si aggirano intorno ai meno 143 gradi celsius vediamo adesso la termosfera essa prende il nome dal greco termos che sta a indicare uno strato molto caldo questa regione dell'atmosfera è caratterizzata infatti da un continuo aumento della temperatura con l'altezza secondo dati e calcoli teorici recenti tra i 110 e i 120 chilometri essa dovrebbe essere già risalita a 0 gradi celsius a 150 chilometri si aggirerebbe intorno ad alcune centinaia di gradi sopra lo zero e al limite superiore in prossimità della termopausa supererebbe il migliaio di gradi tuttavia questi dati si riferiscono alla temperatura cinetica delle particelle che le fa viaggiare a una velocità di poco inferiore alla velocità di fuga nella termosfera cominciano ad incendiarsi e a disintegrarsi le meteore corpi solidi che provengono dallo spazio nella termosfera si trova la ionosfera lo strato dell'atmosfera terrestre che riflette le onde radio lunghe medie corte e cortissime grazie a questo strato atmosferico è possibile che le trasmissioni radio possano essere trasmesse in più punti della superficie terrestre la ionosfera è anche sede del fenomeno delle aurore polari che si formano in seguito a interazioni tra protoni ed elettroni di origine solare e i gas rarefatti come azoto e ossigeno presenti nell'atmosfera a 100 chilometri di quota si trova la linea di carman posta come limite convenzionale tra i voli aeronautici e i voli astronautici vediamo adesso l'esosfera l'esosfera terrestre è lo strato più esterno dell'atmosfera a partire dai 500 chilometri di altezza essa è caratterizzata da una temperatura di circa 700 gradi celsius che varia a seconda dell'attività solare le particelle gassose che raggiungono e superano la velocità di fuga non partecipano più alla rotazione terrestre e si disperdono nello spazio interplanetario in genere sono gli elementi più leggeri come idrogeno ed elio quelli che lasciano più frequentemente la nostra atmosfera la temperatura di centinaia di gradi a grandi altezze non indica un caldo enorme ma si tratta solamente della temperatura cinetica in quanto i gas sono molto rarefatti e ciò non permette uno scambio termico con l'ambiente e ciò non permette uno scambio termico con l'ambiente